molto divertita su sembra la Tarantarvena è molto forte il canto popolare divertente bravi sono molto bravissimi ha apprezzato anche la Malmo Arena ci fermiamo un attimo torniamo tra pochissimo manca sempre meno all'esibizione di Angelino Nero Giardini calzature e accessori made in Italy di qualità vieni a scoprire le collezioni primavera estate nei negozi e su nero giardini punto it Nero Giardini il made in Italy con stile come avete visto su idealista da questo l'ampio soggiorno portiamola qui fuori che prende un po' d'aria qui sul terrazzo la tua casa è su idealista vieni a vederla quella cabina armadio dai il benvenuto alla nuova mini cooper l'icona della famiglia mini è tornata prova nuova mini cooper presso i partner mini in tutta Italia avevo mal di pancia flatulenza e diarrea mamma correva spesso in bagno poi ho provato in Kijimea e i disturbi intestinali sono migliorati gran cosa Kijimea pro Kijimea pro ora disponibile su Kijimea punto it pro cari lettori ora che le debuttanti sono pronte a contendersi la stagione con esser la vostra affezionata autrice ah è lei le faccio la ricetta fu tutto estremamente chiaro benvenuto in Iliat ti stavamo aspettando Iliat un mondo semplice dove sai sempre cosa aspettarti entrare per credere se vuoi partire con i tuoi amici perché pagare per quattro stanze diverse e ritrovarsi separati quando potete prendere un Airbnb e stare tutti insieme Buonasera e bentornati in diretta c'è la sessantottesima edizione dell'Eurovation Song Contest la seconda semifinale vi ricordo che potete seguirla chiaramente su Rai 2 su Radio 2 insieme a Diletta Parlangeli e Matteo Osso su Rai Play c'è uno speciale che si chiama Claude Talkcast su Rai News insomma evento super seguito